Oggi l'ordine consegna alla comunità della provincia di Caltanissetta i nuovi medici e odontoiatri. L'impegno da parte di ciascuno di noi è di agire per garantire a tutti cure di qualità ed accessibili, indipendentemente dallo stato sociale e da disponibilità economica. Così il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Giovanni Di Polito, ha dato il benvenuto a 68 nuovi medici che hanno giurato in occasione della giornata del medico. Hanno prestato il loro giuramento durante la cerimonia che si è svolta al centro polivalente Michele Abbate. Ai nuovi camici bianchi è stata consegnata una pergamena riportante l'antico giuramento di Ippocrita, ormai non più in vigore, e il codice di deontologia medica. Questi giovani colleghi sono stati accolti anche dai colleghi più anziani, soprattutto dai tre colleghi che oggi hanno festeggiato anche i 50 anni di laurea, ma devo dire che sono stati accolti benissimo dal tutto il direttivo, perché rappresentano quello che è il futuro della sanità nel nostro territorio. Una sanità che in atto presenta qualche preoccupazione, come nel mio intervento ho stigmatizzato, ma che sicuramente non deve farci andare in depressione, in apprezzione eccessiva, dobbiamo soltanto lottare, noi più anziani, vigilare affinché i nostri colleghi, che sono colleghi giovani, volenterosi e preparatissimi, possano svolgere al meglio la loro attività e possibilmente nel nostro territorio. Sicuramente la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici l'ha preso come primo punto, come modalità di lavoro assolutamente non nei prossimi mesi, ma nei prossimi giorni, nei giorni passati addirittura, perché è un problema nazionale la carenza di personale medico e soprattutto il non ricambio generazionale, che è quello che preoccupa di più questi ragazzi. Ma noi chiediamo al Governo, abbiamo un'interlocuzione diretta, chiediamo che questi ragazzi vengano seguiti dall'ingresso all'università fino all'ingresso nel mondo del lavoro, perché se no noi avremmo creato oggi 67 nuovi disoccupati laureati. Noi invece pensiamo che loro debbano svolgere al meglio il loro iter e ancora di studi fino alla specializzazione per poi essere immessi nel mondo del lavoro. Ci auguriamo proprio per quello che ha detto lei che vengano tanti anestesisti, tanti cardiologi, tanti chirurghi, le figure che mancano più di tutte nel nostro territorio in questo momento. Questi ragazzi li abbiamo accolti proprio perché non sia solo l'atto formale che il 28 febbraio scorso come Consiglio Direttivo dell'Ordine abbiamo fatto iscrivendoli al nostro ordine, ma oggi penso che abbiano percepito l'affetto che la categoria medica ha nei loro confronti, devo dire anche supportata naturalmente dai loro familiari, ma devo dire anche dai tanti cittadini comuni presenti oggi che hanno accolto con un caloroso applauso questi ragazzi. A loro va l'impegno da parte dell'Ordine di non lasciarli mai da soli e soprattutto va l'augurio che possano molto presto, dopo la specializzazione, introdursi nel mondo del lavoro in maniera attiva e soprattutto perseguire quello che è il nostro obiettivo principale è quello di curare il malato e come ho detto io non la malattia o il letto, ma il malato, il malato con tutta la sua problematicità, con la sua identità personale e familiare. Io ho fatto molto richiamo al codice deontologico oggi, anche in Pemmuda possiamo scherzare e divertirci, ma mai abbandonare quello che è la dignità e il decoro di qualunque cittadino, a maggior ragione di chi deve fare della dignità e del decoro il proprio essere, proprio perché è poi di supporto a gente che ha bisogno.